Ciao a tutti e benvenuti all'oroscopo di oggi. Oggi vi porteremo le ultime notizie astrali e gli influssi planetari che influenzeranno la vostra vita. Sarà un viaggio emozionante attraverso le stelle, quindi preparatevi a scoprire cosa il destino è in serbo per voi oggi. Senza ulteriori indugi, iniziamo questa avventura astrologica insieme. Ciao Ariete. Sentitevi a vostro agio con i membri della famiglia oggi perché potreste essere in disaccordo con un parente anziano. Inoltre, questa giornata potrebbe portare a fraintendimenti o delusioni. Alla fine, ogni famiglia ha le sue sfide. Non prendete decisioni importanti oggi, specialmente in materia finanziaria o di investimenti. Dedicate del tempo ai vostri cari alla fine della giornata. State facendo molti sforzi per nascondere la vostra simpatia per qualcuno. Amore, oggi l'Ariete potrebbe sentirsi irritato. Fate attenzione. Non tutti pensano di essere superiori, come pensa lui. Ma senza esperienze negative, non apprezzerete o addirittura riconoscerete le esperienze positive. Salute, oggi tutto sembra positivo. Ma fate attenzione, i dolci e le feste possono raddoppiare. Prendete le scale invece dell'ascensore. Non esagerate, potreste danneggiare il vostro stomaco e il vostro sistema nervoso. Lavoro e denaro, oggi potrete condividere molte delle vostre esperienze. I colleghi non osano chiedere, ma vi saranno grati. Ciao Toro Potreste preoccuparvi per questioni insignificanti oggi. In realtà, la maggior parte delle preoccupazioni non si verificheranno mai. Fate attenzione nella vostra comunicazione oggi, poiché potrebbero verificarsi inganni e malintesi. Tuttavia, alla fine della giornata riceverete buone notizie. Potreste essere inclini a spendere in cose non necessarie, quindi fate attenzione alle spese. Lasciate che la vostra creatività prenda il sopravvento e lasciate perdere tutto il resto. Amore, godetevi il tempo insieme e concentratevi completamente sul vostro partner. Un regalo d'amore molto prezioso. Salute, avete mai provato un letto d'acqua? Provate a cercarlo in un negozio di mobili, la sensazione di stanchezza, stress e ansia potrebbe derivare da una mancanza di sonno. Date al vostro corpo una meritata notte di riposo. Lavoro e denaro, dal punto di vista finanziario, oggi il Toro affronterà alcune difficoltà. Le tentazioni di spendere saranno ovunque. Fate un bilancio saggio con il vostro denaro, è ancora necessario per un importante affare che avete in programma. Ciao gemelli! Fate attenzione alle questioni finanziarie oggi, poiché supposizioni errate e inganni potrebbero comportare conseguenze negative. Mantenete gli occhi aperti. Questa non sarà una giornata facile se dovete confrontarvi con i vostri superiori. Cercate di trascorrere del tempo con la vostra famiglia per evitare conflitti e decisioni sbagliate. Lo stress è solo temporaneo, quindi non lasciate che influisca sul vostro comportamento. Nella vita, ci sono molte perdite, non permettete loro di appesantirvi. Amore, se ora avete una nuova persona speciale, potreste essere innamorati. Mostrate il vostro fascino. Avete tutto il necessario per attirare coloro che vi circondano. Salute, se siete gemini e avete considerato di iniziare un programma di allenamento da tempo, oggi è il giorno perfetto per farlo. Potreste iniziare con una corsa. Lavoro e denaro, oggi i gemelli inizieranno a riscontrare difficoltà. Questo è particolarmente evidente sul lavoro. Non affrettatevi, prendetevi il tempo per riflettere attentamente su ciò che è importante oggi e ciò che può aspettare. Ciao Cancro Oggi la luna nel tuo segno opposto al Capricorno e di fronte al segno del Capricorno è leggermente offuscata. Questa non è una combinazione facile poiché non favorisce la comprensione reciproca. Confusione, delusioni e ostacoli potrebbero attraversare il tuo cammino oggi. Mantieni la calma, fai attenzione e prendi decisioni oculate riguardo a questioni oscure. Stai attento quando si tratta di decisioni finanziarie e, se necessario, cerca consigli da fonti fidate. Oggi è un giorno in cui il corso della tua vita è destinato a essere impostato su un progetto di grande importanza. Amore, non permettere che il cancro o il cancro sfugano a una grande avventura. Ciò che hai investito in termini di denaro e affetto, ora lo riceverai sotto forma di amore e fedeltà. È una giornata favorevole per i single. Salute, le energie cosmiche ti forniscono energia, usala a tuo vantaggio. Sei in grado di raggiungere prestazioni elevate. Riconsidera la tua dieta. Per la tua salute, potresti perdere qualche chilo. Le stelle promettono perseveranza. Lavoro e denaro, oggi il cancro davvero ama il suo lavoro, e ciò ha un impatto positivo sulle tue prestazioni giornaliere. Sicuramente riceverai riscontri positivi. Ciao Leone. Oggi potresti dubitare di te stesso, ma non preoccuparti perché tutti noi abbiamo giorni come questo. È una sensazione passeggera che scomparirà entro 48 ore. Mantieni tutto facile. L'orario di lavoro sarà frenetico e stancante, ma sarà una giornata emozionante. Goditi una spesa per te stesso oggi. Cerchi di accontentare tutti, ma in questo caso è meglio evitare decisioni importanti. Amore, l'amore è la cosa più preziosa per il Leone. Anche se al momento potrebbe non sembrare così, sei sempre alla ricerca dell'amore e ne hai bisogno per essere felice. Tempi migliori stanno arrivando di nuovo. Salute, oggi, insieme al tuo partner, il Leone godrà dell'intimità reciproca. Lavoro e denaro, il lavoro oggi va a meraviglia e la stella fortunata sorride al Leone. Sfrutta questa opportunità favorevole e finalmente parla con il tuo supervisore riguardo a un aumento adeguato. Ciao Vergine. Oggi sei autorizzato a essere aperto e espressivo come desideri, ma solo quando è necessario condividere i tuoi sentimenti. Se questo ti fa sentire meglio, parla delle cose che stai vivendo. Tuttavia, non aspettarti di liberarti completamente dalla rabbia o di cambiare la direzione delle tue azioni. Se hai bisogno di sfogarti, fallo, ma continua a fare il tuo lavoro. Potresti doverti confrontare con informazioni inaccurate o deludenti. Mantieni la calma e verifica attentamente tutto per evitare ritardi last minute. Riconsidera una convinzione oggi, potresti non essere in grado di vedere obiettivamente. Amore, le donne vergine hanno una personalità forte e fiduciosa in se stesse, piene di energia, amano i colori e i profumi raffinati e possono sempre scegliere l'abbigliamento adatto alla situazione attuale. Salute, l'ambizione va dosata con attenzione. Ricorda che puoi avere troppe cose buone. Lavoro e denaro, stai ottenendo molte realizzazioni e puoi aspettarti ulteriori compromessi. Grazie a nuove abitudini di risparmio, hai successo. Attraverso la stella Mercurio, una proposta promette un vero successo. La migliore opportunità è nascosta. Ciao bilancia. Stai attento oggi perché sei in vista e tutti stanno guardando. Preparati per le possibili sfide. Concentrati su ciò che sta accadendo, in particolare per quanto riguarda le questioni domestiche o familiari, poiché le tue informazioni potrebbero non essere chiare o accurate. Connettiti con le persone che veramente ti capiscono attraverso una comunicazione efficace. Una cena veloce o un'uscita con gli amici potrebbero portarti gioia durante la giornata. Prendi un libro e vai in giardino o sul balcone, dimentica il lavoro, l'aria fresca e la natura faranno bene. Amore, non hai bisogno di tacere solo per evitare le discussioni. Affronta il problema e troverai le parole giuste. Troppa dipendenza può diventare fastidiosa. Una maggiore distanza avvicinerà il tuo partner. Salute, l'opposizione solare potrebbe farti sentire instabile e preoccupato. Trova un equilibrio migliore, programmando più pause. Gestisci le tue energie in modo oculato. Concediti pause brevi. Lavoro e denaro, oggi ti senti molto felice perché è il momento giusto per avere idee innovative. Le opportunità di successo sono promettenti, quindi sii audace con le tue scommesse. Ciao Scorpione Fai attenzione ai tuoi piani di comunicazione e ai viaggi oggi, poiché le questioni potrebbero causare ritardi, deviazioni o confusione nelle tue interazioni. Prenditela con calma e assicurati che ci sia chiarezza tra te e gli altri. Viaggiare con un partner affidabile può migliorare la tua giornata. Preparati per spese inaspettate, ma sappi che questa giornata potrebbe comunque finire in modo positivo. Nessuno vuole farti del male oggi, quindi dedica un po' in più di tempo alle persone intorno a te. Amore, oggi sarà una giornata eccezionale per lo Scorpione. Incontrerà un partner con la stessa visione. Due menti affini si incontrano. Potrebbe esserci una scintilla di emozioni qui. Sarà unico. Salute, non domani, ma oggi, rallenta. Oggi risolvi ciò che non vuoi fare domani. Lavoro e denaro, lo Scorpione inizia ad affrontare sfide oggi. Questo è particolarmente evidente sul lavoro. Non affrettarti, prenditi del tempo per riflettere attentamente su ciò che è importante oggi e su cosa può aspettare. Ciao Sagittario Oggi non è il giorno ideale per prendere decisioni importanti legate all'eredità, ai beni condivisi o a qualsiasi questione finanziaria o assicurativa, poiché potrebbero verificarsi confusione e inganni. Inoltre, le persone con autorità potrebbero non essere collaborative, quindi non è un buon giorno dal punto di vista finanziario. Mantieni le relazioni stabili e non lasciare che le tensioni sul lavoro ti influenzino. Dedica del tempo alle persone care. Amore, Sagittario di entrambi i sessi sono attraenti grazie alla loro energia naturale. Sono romantici e credono in un amore raffinato, sempre alla ricerca della caccia per le donne incapaci di resistere a essere cacciati. Salute, equilibrio tra corpo e anima è la tua massima oggi. Alcuni minuti di meditazione avranno effetti meravigliosi. Lavoro e denaro, stai ottenendo molte realizzazioni e puoi aspettarti molte concessioni. Grazie a nuove misure di risparmio, stai avendo molto successo. Attraverso la stella Mercurio, una proposta promette un vero successo. Le migliori opportunità sono nascoste. Ciao Capricorno. Pensa a rimandare qualsiasi conversazione importante con un partner o amico oggi. Questo non è il momento giusto. Evita di cercare favori dai tuoi genitori o dai tuoi superiori. Continua le tue attività quotidiane e non aspettarti trattamenti speciali. Se ti senti isolato o solitario, ricorda che le cose potrebbero sembrare peggio di quanto siano in realtà. Mantieni la fiducia e mantieni un'ottica positiva. Amore, l'attesa è stata ricompensata, stai incontrando la persona dei tuoi sogni? Sii curioso di vedere quali altre sorprese ti riserva la giornata. Lavoro e denaro, oggi il Capricorno è di successo in ogni cosa. È il momento perfetto per tentare la fortuna. La fortuna potrebbe persino migliorare la tua situazione finanziaria. Potrebbero esserci alcune difficoltà in arrivo per te in questa giornata, e alcune delle tue idee potrebbero essere ostacolate nelle fasi iniziali, ma nel complesso avrai molto da imparare da questi fraintendimenti. Alcuni di questi ostacoli stradali alla fine ti aiuteranno a costruire su una base ancora più solida e ti offriranno un senso di realizzazione più elevato alla fine. Ciao Acquario. Sei appassionato di molte cose in questo momento della tua vita, ma ciò non significa che non dovresti essere gentile e premuroso con il tuo partner. Non sprecare la tua energia su aree personali poco promettenti quando potresti investirla nella tua relazione. Desideri passare del tempo piacevole con il tuo partner, ma non fare nulla di precipitoso. Lavoro. Fai attenzione al lavoro oggi, specialmente quando tratti con il tuo capo. I tuoi piani potrebbero essere ostacolati da restrizioni o regole. Pensa attentamente prima di prendere decisioni. Mantieni la calma per evitare situazioni spiacevoli e dannose. Amore. Il tuo rapporto con il partner è la cosa più preziosa per l'acquario. Anche se le cose sembrano alquanto diverse ora, in realtà sei sempre alla ricerca dell'amore e ne hai bisogno per essere felice. Un regalo d'amore molto prezioso è in arrivo. Salute. Perché sei così teso? Tutto sta procedendo come previsto. Per fortuna, una piccola crisi è finita. Incontra gli amici per un'attività sportiva, il gruppo offre il doppio del divertimento. Le stelle forniscono la resistenza. Lavoro e denaro. Sii un po' più paziente e potrai ampliare la tua sfera d'influenza. Un contatto professionale potrebbe evolvere in un legame personale, fai attenzione. Non farti convincere o costringere a fare qualcosa. Rinvestire i soldi vinti immediatamente. Ciao pesci. Gestire i bambini potrebbe sembrare difficile oggi poiché potresti sentire di non essere in sintonia con uno dei tuoi figli. Gli impegni sociali e gli appuntamenti romantici potrebbero essere rimandati o cancellati a causa di situazioni impreviste. Lo studio potrebbe essere stressante per gli studenti, ma mantieni la calma perché lo stress non è mai la soluzione. Gli imprenditori potrebbero avere fortuna e fare profitti. Non affrettarti, non ti aiuterai in alcun modo, ma aspetta che la situazione si calmi un po'. Amore, l'amore è la cosa più preziosa per i pesci. Anche se potrebbe non sembrare così al momento, in realtà stai cercando costantemente l'amore e ne hai bisogno per essere felice. Un periodo migliore sta arrivando ancora una volta. Salute, perché sei così teso? Tutto sta andando secondo i piani. Per fortuna, una piccola crisi è finita. Incontra gli amici per un'attività sportiva, il gruppo offre il doppio del divertimento. Le stelle forniscono la resistenza. Lavoro e denaro, sii un po' più paziente e potrai ampliare la tua sfera d'influenza. Un contatto professionale potrebbe evolvere in un legame personale, fai attenzione. Non farti convincere o costringere a fare qualcosa. Rinvestire i soldi vinti immediatamente.